Skyline di Khalid sono le 15 e 41 e iniziamo la seconda parte della puntata di oggi di Picnic, un dialogo tra le generazioni. E come sempre, come ogni giovedì pomeriggio, siamo in compagnia di Letizia. Ciao Letizia e bentornata a Picnic. Ciao Giulia, grazie mille. Perfetto, allora Letizia è questa ragazza di 24 anni che sta facendo servizio civile presso il Centro Culturale Protestante e la Libreria Claudiana di Torino ed è appassionata di lettura e quindi di settimana in settimana ci consiglia delle letture intergenerazionali che affrontano momenti diversi della vita e un po' come fa appunto il nostro programma Picnic, promuovono la comprensione e il dialogo tra le generazioni. Oggi in particolare Letizia ci parla di Age Pride che è un libro scritto da Lidia Ravera ed è stato pubblicato quest'anno, nel febbraio del 2023, da Inaudi Editore. Letizia ci racconti un po' la trama di questo libro? Molto volentieri. Allora vorrei partire prima di tutto dal sottotitolo che si legge in copertina che è Per liberarci dei pregiudizi sull'età. Infatti questo libro contiene varie riflessioni di Lidia Ravera su alcune tematiche proprio legate all'età e all'invecchiamento, ad esempio l'agenismo interiorizzato nella società contemporanea, gli stereotipi sull'età diffusi, la paura di invecchiare. Infatti parte proprio dalla considerazione che un terzo della popolazione italiana è costituita da oltre sessantenni che per la prima volta rispetto alle generazioni passate hanno ancora un sacco di anni da vivere di fronte a loro e spesso però si trovano in queste condizioni quasi rinchiusi negli stereotipi che vengono posti su di loro forzatamente. Lidia Ravera invece invita a vivere quest'età quasi come una festa, con orgoglio rispetto all'età e al tempo che si è vissuto e con la voglia di continuare a vivere in maniera libera e creativa. E lo fa proprio partendo dalla sua esperienza personale, raccontando di sé del suo rapporto conflittuale con l'età, con l'invecchiamento e in questo modo spiega come nel tempo ha imparato e ha capito che il tempo può trasformarsi in un alleato verso la scoperta di sé, di una libertà inaspettata e non come un limite o un nemico. Da quello che ci hai detto sembra una figura molto interessante, quindi sono curiosa di chiederti qualcosa su di lei, su Lidia Ravera appunto, che tra l'altro è proprio di Torino, quindi vicino a noi. C'è qualcosa che ci puoi dire su questa autrice e che magari ci può anche aiutare effettivamente a comprendere meglio il suo libro Age Pride? Certo, Lidia Ravera, come hai detto tu, è una scrittrice torinese, oggi ha 72 anni, è una scrittrice di successo fin dal suo primo romanzo pubblicato nel 1976, Porci con le ali, e ha scritto numerosi romanzi, racconti, saggi e nelle sue opere traspare molto, traspaiono molto le sue esperienze, la sua personalità. Ad esempio in Age Pride si nota come questo suo spirito battagliero, militante, molto attivo, e infatti lei ha vissuto il 68 gli anni seguenti, nel 68 aveva appunto 17 anni, e racconta come per tutta la vita lei si sia battuta per le sue idee, per realizzare una ageless society, ossia una società dove persone di età diverse sanno dialogare tra loro, invece che rinchiudersi all'interno della propria bolla, sanno, o anzi combattere tra di loro, sanno invece dialogare e confrontarsi. Ad esempio ha creato dei senior cafe, lo racconta proprio in questo libro, che sono dei piccoli circoli dove donne si incontrano, donne ma non solo ovviamente, per parlare, per confrontarsi sull'età, sull'invecchiamento e le loro vite. Oppure anche ha proposto di istituire un assessorato per le politiche senili, così come esiste quello per analogia delle politiche giovanili. Prima ho parlato di donne soprattutto, e infatti Lidia Ravera è una femminista militante, potremmo dire, e in questo libro usa il femminile sovraesteso, ossia declina e coniuga le parole al femminile, un femminile universale che comprende ovviamente anche i maschi, ma si riferisce soprattutto alle donne per alcune tematiche che le toccano maggiormente. Di lei ti posso anche dire che in moltissimi altri suoi libri precedenti ha toccato sempre queste tematiche sul tempo che avanza, sull'invecchiamento, e alcuni suoi titoli infatti sono Terzo Tempo, Maledetta Gioventù, Nei Giovani Nei Vecchi, Ammazzare il Tempo, e sono, è proprio, lei dice, è quasi una mia ossessione questa, è sicuramente un tema che le è molto caro, e i suoi libri infatti testimoniano una vicinanza con questi temi generazionali e intergenerazionali, sui momenti di passaggio, sulla crescita, sull'invecchiamento. E in particolare, secondo me, è molto vicino ad Age Pride, perché in un certo senso sono messe in pratica, nelle vicende del romanzo, alcune delle idee espresse in questo libro, Terzo Tempo, un libro pubblicato nel 2017, in cui la protagonista crea una sorta di comune per anziani, in un ex convento, in cui dei suoi vecchi amici, intellettuali, con cui aveva condiviso degli ideali forti in gioventù, si rincontrano e cercano di affrontare questo periodo della loro vita pienamente, cercando la loro felicità attivamente, ecco, facendo frutto realmente delle esperienze vissute. Come potrai immaginare, quando hai parlato della Ageless Society, mi hai conquistata, perché effettivamente a Picnic ogni giorno cerchiamo un po' di fare questo, non con questi termini, perché appunto Ageless Society, questa società, direi, in cui l'età non conta in qualche modo, ed effettivamente è molto interessante che Lidia Ravera abbia dedicato addirittura un libro a questa tematica, al cercare appunto di far dialogare persone che hanno età diverse, che sembra una cosa scontata, però alla fine non succede sempre, e secondo me tutti i mezzi, come appunto noi lo facciamo con la radio, ma anche un libro, possono essere estremamente interessanti per cercare appunto di conoscerci meglio e di comunicare. Ma adesso invece io ti vorrei chiedere quali sono i messaggi e i pensieri principali che sono contenuti all'interno del libro. C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente e che magari può interessare ai nostri ascoltatori e magari possono appunto cercare il libro e leggerselo? A me hanno colpito moltissime immagini con cui lei cerca di descrivere l'età tra di loro che cercano di effettuare questa comunicazione difficile, a volte quasi impossibile. Ad esempio, in una parte paragona le fasi della vita a dei paesi che hanno costumi e usi diversi, hanno diversi linguaggi e si considerano tra loro quindi stranieri. Quindi infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità, vecchiaia, ognuno è un paese con una propria bellezza, un viaggio da esplorare con emozione, con meraviglia, e però diciamo che si trova a volte quasi in conflitto con gli altri perché per questa proprio difficoltà di entrare in relazione anche a causa degli stereotipi che a volte ci sono. E quindi per smontare questi stereotipi passa in rassegna una a una tutte le rappresentazioni caricaturali che vengono fatte degli anziani, ma non solo, anche delle altre età. Ad esempio, riflette su come le persone, diciamo, di una certa età siano a volte considerate come incapaci di una vita attiva, di una reale crescita magari intellettuale, che tolgano spazio al lavoro magari dei giovani e che siano fuori luogo laddove stiano sperimentando un nuovo amore magari. Invece lei fa questo appello a tutti gli italiani sopra i 65 anni o circa e li invita proprio a inventarsi la loro vecchiaia e dice che la vecchiaia è come uno spazio vuoto e ognuno deve avere il coraggio di arredarlo come più desidera. Possiamo essere come ci pare contro appunto questi stereotipi e queste caricature. Questo è un messaggio veramente bellissimo, no? Perché spesso siamo abituati a avere tutte le fasi della vita molto strutturate e a un certo punto arriviamo in un momento che può essere quello appunto come dice lei, quello della terza età, ma anche in altri momenti in cui effettivamente ci rendiamo conto che abbiamo uno spazio libero e in qualche modo non siamo abituati ad arredare, come dice lei, liberamente il nostro tempo. Abbiamo sempre qualcosa da fare e nel momento in cui non ce l'abbiamo più reinventarsi non è sempre così scontato e così facile. Ma Letizia, questo libro possiamo definirlo intergenerazionale? Cioè interessa solo le persone che appunto stanno vivendo questo periodo della vita oppure in qualche modo parla a tutti? No, assolutamente parla a tutti. In primo luogo invita, come abbiamo visto, a dialogare, dialogare tantissimo. Lei dice appunto ogni età ha la sua croce finché la tua età la subisci senza mai sporgerti sul prima o sul dopo, senza cercare di capire le altre età. Infatti bisogna invece comunicare con chi sta vivendo quel prima e quel dopo. E non è riferito solamente all'età della vecchiaia, ma anche a tutte le età, anche alla gioventù. Ad esempio lei parlando della gioventù fa lo stesso lavoro di diciamo decostruzione. Quindi la gioventù spesso è considerata un'età in cui si è magari ideizzati, si viene quasi corteggiati, esposti come un trofeo, come se fosse la parte più bella, più diciamo felice e spensierata della vita, anche a volte magari ingenua. E invece bisogna proprio mettersi nei panni degli altri e riporta ad esempio in una parte vari discorsi che sono testimonianze di persone che hanno raccontato com'è vivere la loro età. Questa è una parte molto toccante secondo me e mostra come abbiamo interiorizzato molti stereotipi sull'età e quanto questi siano proprio vissuti sulla nostra pelle e quanto siano magari dannosi e portino a un malessere. Non solamente appunto riferiti alla vecchiaia, ma testimonianze provenienti da tutte le età. Ad esempio c'era la testimonianza di questa ragazza che diceva sento come se dovesse sbrigarmi ad essere felice, ad andare a ballare, innamorarmi ma non capiscono quanto ci siano tutte queste aspettative e quanto queste siano pesanti. Quindi invita proprio a comunicare con chi sta vivendo periodi diversi. Certo, io sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi e quello che dice ovviamente la scrittrice Lidia Ravera a proposito del fatto che ogni età ha la sua croce che è vero ma spesso ce lo dimentichiamo, spesso si idealizza la gioventù come questo momento in cui uno normalmente è sano, in forma e quindi deve essere felice. Invece è proprio vero che ogni età ha la sua croce, ogni momento della vita ha delle difficoltà e poi ovviamente con lo scorre del tempo uno romanticizza un po' il tempo passato. Invece non è così e quindi ricordarselo ci permette anche un po' di prendere in considerazione tutta la vita come un'esperienza che ha sempre momenti belli e momenti brutti e bisogna sempre in qualche modo cercare di farne il meglio, di arredare al meglio il momento che stiamo vivendo. Io ti ringrazio moltissimo per averci parlato di questo libro che vi ricordo si chiama Age Pride di Lidia Ravera e appunto parla della terza età. Ma adesso invece ti chiederei uno spoilerino invece sul libro della prossima settimana. La prossima settimana parleremo di un libro di Valentina Petri che si intitola Portami il diario e affronta le tematiche della scuola. Perfetto, quindi passiamo direttamente invece all'età scolastica ci trasferiamo sui banchi di scuola la prossima settimana e parliamo appunto di questo libro di Valentina Petri. Tra l'altro ne approfitto anche per dirvi che la prossima settimana la rubrica di Letizia non sarà il giovedì pomeriggio come di consueto ma sarà invece il mercoledì. In particolare mercoledì 22 novembre il prossimo mercoledì Letizia verrà qui in radio quindi la sua rubrica sarà in presenza finalmente chiacchiereremo di persona sono molto contenta e soprattutto avremo anche l'occasione di intervistare nella seconda parte della puntata Flavia Biondi che è un'autrice di graphic novel in particolare parleremo con lei del suo ultimissimo graphic novel uscito a inizio novembre quindi fresco intitolato La Casa delle Magnolie ovviamente se questi due libri vi interessano vi consigliamo di iniziare a leggerli consultarli così magari poi ne possiamo anche parlare insieme se ci volete scrivere qualche messaggio appunto io e Letizia saremo insieme e possiamo commentare questi libri io ti ringrazio tantissimo Letizia per essere stata con noi come sempre averci portato dei contenuti molto interessanti grazie mille a te ci vediamo mercoledì prossimo direttamente lì esatto a mercoledì prossimo e ne approfitto anche per salutare voi la puntata di Picnic finisce qui vi lascio al GR locale e poi alla versione di Penelope ciao Letizia e ciao a tutti buon pomeriggio